Ehi, 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 ehi! Ciao a tutti! Indominate un po'! Altro weekend di gare, amici! Questa volta, gara a squadra. Squadra, Sant'Eusebio, Pugna Genova. Elde, D, SIL. Vi portiamo con noi. Vi starete chiedendo, dov'è Dana? Non vi preoccupate, Dana vi porterà in gara con lei domani. Domani. Secondo voi, è l'outfit adatto? No. Abbiamo il body sociale, ma lo vedrete dopo. E ora, vi facciamo vedere quello che mettiamo nella sacca. Ecco lo zainetto, dove mettiamo l'autocertificazione, poi la sacca con dentro l'acqua, i fazzoletti, cavigliere e polsino, paracalli, mollette varie e documenti. E Lara ha più o meno la stessa roba, dai. Mi sa bene, devo dire. Un ordine. E, ultima ma non ultima, la magnesia. E ora, ci trucchiamo! Eccoci, truccate. E pettinate! Esatto. E ora, andiamo. Che siamo in ritardo! Per ritardo! Come sempre! Andiamo, andiamo, andiamo a gareggiare! Woo! 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 Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao amici. Ciao a tutti. Grazie a tutti.